Buonasera, corte d'assise di Como presieduta dal dottor Alessandro Bianchi. Il processo deve far luce sulla morte di Chiara Varifi, una ragazza ritrovata nel lago di Como a bordo della sua macchina a tre anni della sua scomparsa. Imputato è un suo caro amico, Sandro Vecchiarelli, che nel processo si è avvalso della facoltà di non rispondere e quindi il pubblico ministero ne legge le dichiarazioni rese durante le indagini. Cosa ha fatto in quel giorno Vecchiarelli, nel giorno del 1 dicembre 2002, quando Chiara sparisce? Lui ha dichiarato fin dall'inizio di essere tornato a casa ubriaco dal locale di Colico con Vitali Daniele e la fidanzata verso le 4 del mattino. Dopo aver controllato il padre va a letto e dorme fino alle ore 13, 13.30 circa. Dopodiché si alza, prepara il pranzo per sé e per il padre. Questo che abbiamo appena sentito è la versione dell'imputato che, dato processualmente rilevante, dichiara di essere ritornato a Dervio a casa sua intorno alle 4 e di non aver più rivisto Chiara Varifi. Ma un testimone che casualmente si ritrovava quella mattina del 1 dicembre del 2002 a girare per il paese, dichiara e racconta una storia diversa che collegherebbe Sandro Vecchiarelli alla scomparsa della ragazza. Allora, mi ricordo che c'è stata un'alluvione, mi ricordo che ho avuto un battibecco, una discussione con la mia convivente e mi ricordo che lei è uscita, è andata penso in un bar o qualcosa. Io sono stato a casa con la bambina, comunque sono rimasto in casa, se non che lei non è rientrata la notte e io la notte sono andato a cercarla. E durante questa ricerca nel comune di Dervio, lei ha visto la macchina di Chiara Varifi? Sì, devo essere sincero che ho notato che c'era questa macchina, anche se non la conoscevo, non conosco bene la persona così, però ho visto che c'era una macchina parcheggiata più o meno dove abitava il Sandro, in quella zona lì. Lei si ricorda che ha visto la macchina di Chiara Varifi sotto casa del Vecchiarelli? Sì, sono stati gli ultimi giri che ho fatto, posso dedurre che l'ho vista verso le 5. Ecco, lei è sicuro di questo? Sì, che c'era una macchina sono sicuro. E' sicuro che la data era quella? Sì, era quella notte lì. Ed è sicuro anche dell'orario che ha indicato i carabinieri? Sì, 10 minuti più, un quarto d'ora in più, un quarto d'ora in meno. Senta, lei è sicuro che era la macchina di Chiara? Ce la sa descrivere? Era una Jeep, adesso non mi ricordo la marca, però comunque io l'ho vista transitare qualche volta, sono sicuro che era la sua macchina. Ho capito. Lei c'era mai salito sulla macchina di Chiara? C'era mai salito? No. Io le leggo quello che lei ha dichiarato ai carabinieri. Sono sicuro che l'auto da me notata era quella di Chiara, in quanto lei in precedenza mi aveva dato un passaggio e in quell'occasione era presente anche Vecchiarelli Sandro. Sì, è vero, mi hanno dato una volta uno strappo. Ero all'Ierna, ero rimasto a piedi, ho fatto autostoppi e mi hanno dato uno strappo fino a Bellano. Venini conosceva bene Chiara e dei Chiarelli, che lei sappia? Chiara? Da Riffi. No, assolutamente. Che si è iniziato a parlare di Chiara dopo la scomparsa, quindi si è parlato e dalla macchina e la televisione e di questo. Ecco, il fatto che lui abbia riconosciuto la macchina di Chiara, come può essere di peso, non la conosceva già, l'ha presa dalla televisione, che macchina era? Ne parlava dal giorno, parlavano di questa Jeep colore particolare. Non la conosceva da prima la macchina? Da prima della scomparsa, no? Quindi che Chiara avesse da Jeep Bordeaux l'ha preso dalle notizie che circolavano dopo la sua scomparsa? Sì, per quello che quando ha visto poi l'auto lui non sapeva se è ricordato della Jeep, del colore specifico, viola, eccetera, come hanno iniziato a nominarla. Sua moglie ha dichiarato che lei non conosceva l'auto di Chiara, ma che lei si è convinto che fosse la macchina di Chiara dopo tutto il bailam che si è creato da quando è sparita. Quindi lei invece prima ha detto, no io conoscevo la macchina, ci sono anche salito sopra. Ci risponde a questa cosa? Non lo so, io non è che certe cose non è che li... Ho capito, ma la macchina di Chiara, lei la conosceva o no? Questa è una cosa... Sì, lo conoscevo, ma ha dato anche uno strappo una volta. Anche a me dare uno strappo, ma come faceva a ricordarsela così? Allora, aveva parte del fascione grigio, i fanali davanti, cioè era un fuoristrada, no? Un fuoristrada così non ce n'erano, era solo la sua. Va bene. Cioè, sono sicuro... Va bene, no, beh, c'hanno già un altro testo detto che c'era un'altra macchina in giro, dello stesso colore, stesso modello. Sì, infatti, sinceramente ha ragione perché ho visto, anche io l'ho vista che c'era un'altra. Lo dica la cosa. Però quella sera lì... Era quella. Era quella. Va bene. Lei quando è che ha ritrovato sua moglie? Il giorno dopo. Dove l'ha ritrovata? L'ho ritrovata, se non sbaglio, a Bellano. E sa dove era stata durante la notte, sua moglie dove aveva cercato rifugio? Sì, è andata, prima mi sembra, da una sua amica che poi dopo... non l'ha, perché probabilmente aveva bevuto qualcosa, comunque, e poi è andata da una persona che adesso non c'è più, è scomparsa. Come si chiama? Se lo ricorda? Si chiama Tobia. Si ricorda come torna a casa lei? A piedi. Lei ci dice, l'ho trovata a casa di Maglio Antonio e ho superannominato a Tobia, ove l'eroe l'ha trovato riparo durante la notte. Sì. Mentre sua moglie ci ha detto che è tornata a casa lei. Allora, a me mi sembra che l'ho trovata ad Altobia, mi sembra, però siccome non è... Guardi, ci sono stati tanti di questi precedenti, c'erano stati, perché adesso fortunatamente si sono risolti. Ho capito, però lei queste cose le riferisce a una nottata particolare dove poi riferisce un episodio particolare che entrerà in questo processo. No, senta. Dica. Mi guardi bene in faccia. Allora, che io non posso ricordarmi se mia moglie è venuta a casa da sola con le sue gambe e l'ho portata a casa io, questo le do ragione. Ma che io ho visto una macchina, non sono uno stupido, eh? No, no. Mi ricordo bene che l'ho vista, perché c'era una situazione particolare. Qual era? Era il tempo... Brutto. Era talmente brutto che non c'era in giro nessuno. E' evidente l'importanza di questa testimonianza perché colloca la macchina di Chiara Bariffi parcheggiata sotto casa di Sandro Vecchiarelli proprio il giorno della sua scomparsa. E quindi nasce per la difesa la necessità di verificarne l'attendibilità. E quindi fa presente al teste un fatto che non è processualmente rilevante, ma che ne dimostra la fragilità dei suoi ricordi. Infatti, mentre il testimonio girava per il paese alla ricerca della propria convivente, ha visto la macchina di Chiara, ma non ha visto una macchina per lui molto più importante. Si ricorda quando arriva Bellano dove parcheggia la macchina? La macchina, dunque, la mia auto è stata segnalata a mio padre perché doveva essere rimossa. Benissimo. Perché dove era? La piazza della chiesa, credo, comunque doveva essere rimossa. Benissimo. Per cui il mio compagno è andato a prendere l'auto e l'ha rimossa. Ok. Quando lei fa il giro a Bellano, ci passa davanti la chiesa? Eh, sì, la chiesa è lì, era lì la macchina. Perfetto. E non vede la macchina di sua moglie parcheggiata su tre posti davanti alla chiesa di Bellano? Io l'ho vista la mattina la macchina. Quando mi hanno detto che era lì. Ah, quindi la chiamano e lei va a vederla. E la notte non la vede? Eh, non sono più andato lì. Ho capito. Ma signor Venini, ma cosa stava cercando lei? Stavo cercando una mia donna. Stava cercando sua moglie. Sì. Se è una persona fisica magari la si può nascondere. Sì. Ma un'autovettura, che lei conoscerà molto bene visto che è sua, la vede se parcheggiata nel bar Parisio del Pi? Senta, io ho capito dove vuole arrivare lei. Io non voglio contraddire, io ho capito dove vuole. Lei vuole farmi dimostrare alle persone che sono qua che io, siccome mi contraddico in tante cose, posso non essere così sicuro di un fatto dove invece io sono certo. Potrebbe venire il mio posto. Allora, senta, se io le dico che a me mi è venuta una cosa qua, una carne crescente, che se non vado a tagliarmela, cioè è un esempio, no? Posso non ricordarmi che non ho i denti perché ormai sono abituato a masticare senza denti, ma di questo mi ricordo, capisce? Io mi ricordo di quel particolare lì della Gip e mi dispiace per lui perché io non voglio metterlo a nessuno. No, lascia il perdere il suo mercato. Cioè io mi ricordo quel fatto lì ed era meglio di clarità che me lo tenevo in mezzo per me. No, no, no. Ma c'è un'altra contraddizione che la difesa sottolinea. Il test ha legato questo specifico ricordo al fatto che quella notte c'era il maltempo, ma quella notte pioveva? Non pioveva, né alle due, né alle tre, né alle tre e mezza. Può darsi che invece era piovuto, non lo so, comunque c'era un tempo bruttissimo. Stante il maltempo che imperversava non vi era nessuno. No, pioveva o non pioveva? Pioveva o non pioveva? Adesso può darsi che pioveva o non pioveva? Quello non lo so se io ho azionato gli argenti stagli o no. No, qui ha detto che il maltempo interversava. Caspito, c'era il lago dovevo vedere... Il lago lì era e lì stava. Pioveva o non pioveva? No, no, era venuto fuori il lago. Lo sappiamo tutti. Avevamo due metri d'acqua nella cantina. Pioveva o non pioveva? Sì, pioveva, era brutto. Era brutto? Era brutto. Va bene. E' acclarato oggettivamente che quella sera non pioveva. Perché Venini la vede la cosa, la vede la macchina parcheggiata, ma la vede il 24 novembre. Io sono convinto, purtroppo la corte mi dovrà consentire questa considerazione, sono convinto che non era quella notte lì. E le dico anche un'altra cosa. No, era quella notte lì. Ha ragione, faccio la domanda. Lei va a bere alle sede del mattino il caffè da suo cognato? In che bar? Eh, sono andato al testore. Perfetto. Sa che il testore quella domenica era chiuso per ferie? Può darsi che ha ragione, però io sono sicuro che quella macchina lì c'era quella notte lì, dell'alluvione, che non c'era mia moglie in casa. Aspetta, io non voglio andare in culo al Sandro, scusi, 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 però io l'ho detto proprio perché l'avevo notata lì, che ne so io. Altra cosa, signor Venini, lei quante volte ha visto parcheggiata la macchina di Chiara sotto a casa dei Vecchiarelli, a parte quella notte? Non ci ho mai fatto caso io. Benissimo. L'auto era parcheggiata nel parcheggino adiacente all'abitazione di Vecchiarelli Sandro, luogo dove la Chiara era comunque solita parcheggiare quando si recava da Sandro. Eh, questo l'ha messa la persona che ha redatto sempre il verbale, di sua ipotesi, ma perché non, scusate una cosa, stiamo giudicando una persona per omicidio e le vogliono dare un ergastolo, no? Allora perché queste cose qua, visto che siamo in Italia e cerchiamo tutti i cavili a una persona che comunque io sono qua come un test, perché non portiamo qua anche la persona che ha redatto il verbale Quando lei ci dice... E vediamo se era in condizioni, scusi, se era in condizioni lucidi, presente, se non voleva farsi la carriera, se non voleva... Cioè, io... L'ha detto o non l'ha detta questa cosa ai carabinieri? No, non l'ho detta. Quando lei dice a sua moglie questa cosa della macchina? Ha detto prima al PM, Bologo Ministero, la domenica sera, quindi 1 dicembre o 2 dicembre? Io sto scelerando, scusate una cosa, ma io posso smettere, cioè io ho il diritto come persona italiana, perché io sto uscendo di testa, scusatemi tutti No, lei non può smettere Perché per me mi sembra un'inquisizione, io mi sento male psicologicamente, avrei bisogno... 5 minuti mi sento troppo pressato, scusate, perché... No, no, se venite, ascolti una cortesia No, anche mezz'ora, non è quello il problema Scusi, eh, sono il presidente No, ma è sta che lei che si rende conto che lei sta facendo una gran confusione o no? Si rende conto Eh, no, io ho capito, è vero che sto facendo una gran confusione, ma sa perché? Perché qualcuno a Monte ha creato prima confusione prima di me Sì, diamo la sospensione e ci sentiamo tra un pomeriggio Eh, no, guardi, pomeriggio Cioè, scusate, io non voglio però... Cioè, io ho la disponibilità però, non voglio né incriminare una persona, né dire le bugie, né essere preso perché E neanche che però uno dice delle cose che io... o pompa delle cose che io non ho detto, porco un cane Allora, ci sospendiamo e riprendiamo le due e mezzo Ci risiediamo le due e mezzo, però Sì, scusi, eh, signor presidente Era stato il 24 novembre Il Venini memorizza la macchina, memorizza la pioggia, memorizza che cercava la moglie E poi davanti ai Carabinieri conclude il primo dicembre Viene raffrontato uno dei temi principali del processo come la macchina di Chiara è finita nel lago. Innanzitutto sappiamo che l'autopsia ha stabilito che Chiara Bariffi è morta affogata e quindi quando la sua macchina è stata inghiottita dalle acque era ancora viva. Quindi le ipotesi in campo sono queste. O la ragazza volontariamente si è inabissata e questa tesi però viene scartata sia dagli amici che dai parenti oppure qualcuno l'ha o spinta o gettata dall'alto. Ebbene sentiamo ora nel processo un testimone che avvalora questa seconda ipotesi. Adesso vi dico chi mi ha mandato questo vaso perché è molto importante. Questo è in ricordo Mirko. Lei si chiama? Cola Mirko. Cola Mirko. Parli, si avvicini per favore al microfono. Mi senti? Sì, tiri avanti pure la sedia. Si appoggia e si metta tranquillo parli nel microfono. Ecco allora, si è in grado di dirci se si ricorda quello che ha fatto dalla sera sabato 30 novembre, domenica. No, domenica. In dicembre. Sì, mi sto recando a Dervio. Lei parte da... Da Varenna, verso le 10. Arrivo all'imbocco della galleria di Dervio. Mi trovo davanti a un camion con un'imbragata, una specie di jeep Bordeaux. Allora, mi spieghi bene dove era il camion. Cioè, lei esce dalla galleria. Esco dalla galleria. C'è un pezzettino piccolo ritorino, piccolo corto. Saranno 15 metri, 10 metri. C'è subito la curva. Verso destra la curva. Verso destra. Subito sulla sinistra il camion, appoggiato al muro. Con i fari spenti. Ma lì c'è una piazzola. Sì, c'è una piazzola. Quindi il camion era dentro nella piazzola? Sì, dentro nella piazzola. È un camion bianco? Un bianco. Ha detto, aveva i fari spenti. Aveva i spenti, c'era dietro il cassone. Era grigio, era buio, era grigio sporco. E con la grucola lì per il ragno per tirare sui rottami. E c'era agganciato qualcosa questa gru? C'era agganciata la jeep, tramite la cinghia che passava tramite i finestrini, davanti. So che dopo un momento l'ha sbattuta giù nel cassone mentre stavo facendo la curva. Io ho rallentato, ho guardato solo sulla persona che era la manovra. E dove era questo tizio? Era dentro la cabina del camion? Qua sopra, era quella gru dietro il postore della cabina, c'erano quelle gru che c'erano il sellino, quelle guidi non tramite il telecomando, tramite le manovrelle. Quindi era fuori dalla cabina del camion? Fuori. E ha visto che questo cos'era un uomo? Sì, l'ho visto solo di profilo. Ma cosa hai in grado di descrivere? L'unica cosa che faceva sono i capelli a calchetto grigi, sui 45-50 anni, con la felpa grigia. C'era un'altra persona che era dietro il cassone, però io quella lì non l'ho vista. Ma lei ha proseguito la marcia? Dopo io si è proseguito la marcia, ho fatto quei 30-40 metri, ho sentito un tonfo, come dell'acqua, dopo l'acqua scendere tutta su, come buttare dell'acqua su altra acqua. Ma lei ha sentito un tonfo di qualcosa che finisce in acqua, che finisce contro una roccia di metallo? No, proprio il tonfo di qualcosa che cade in acqua. Sì. E poi lei se ne va. No, poi io volevo chiamare il carabiniero, mi aveva detto, lascio stare, sto proseguendo la mia strada, se per Cristo cosa mi dicono, si fermi qua l'allievo presto possibile, quando dobbiamo arrivare noi a vedere cosa è successo. Io non mi fermavo. E di questa jeep cosa si può dire, cosa si ricorda? Ecco, cosa c'era i finestrini davanti abbassati, dove passavano le cinghe. le ho visti solo soltanto così, e la ruota dietro a sinistra è bucata. Come l'ho vista io era intatta. Il colore? Gordò. Ma ha detto anche che marca era? Sì, lì l'avevo detto che era il Ferozza, tipo Ferozza Diatus lì. Simile a quella della Chiara Bariffi. È simile. Ferozza è un'altra macchina. Diatus, Ferozza, il nome cos'è? Ma non devo dire io il male nome, devo dire lei. Sì. Gli ha detto che era biglietta il nome? Se ne posso muovere lì con il numero di telaio. Ma vede anche tutto il retro della macchina quindi? Sì, vedo tutto il retro. E c'era una gomma di scorta o no? Se le dico c'era il vetro rotto o non c'era rotto lì? Adesso posso dirgli solo una cosa. Il vetro dietro era rotto e era sano. Ma lo dica lei. No, me lo dica lei. Senta, non è che stiamo qui al mare qui. Perché non le rispondono alle domande. Non ho visto se ha detto solo la cosa, ho visto solo le luci. La corte cerca di verificare se le dichiarazioni del test e cola trovano un riscontro nei fatti. E bisogna dire che la piazzola è compatibile con il luogo dove la macchina di Chiara è stata trovata. E ancora che sul muretto non c'era nessun segno di impatto né di incidente stradale. La macchina che abbiamo rinvenuto si trovava sopra un osperone di roccia in vicinanza di altre carcasse di autovettura. Questo è il segno che le autovetture che sono state poste lì in qualche modo... Erano state gettate. Gettate. Probabile che sia stata gettata da un camion, da qualcosa di alto. La mia opinione è che è stata buttata lì, perché da sola non penso proprio che finisca da sola. L'hanno tirata su praticamente dal buco del luogo, lo chiamano. Cioè cos'è? Cos'è questa? Cos'è? E dicono che c'è un buco sotterraneo, non lo so, che c'è tipo una corrente fortissima, almeno mi diceva mia nonna quando ragionava ancora. Ed è il punto esatto dove hanno trovato la macchina di Chiara? È sotto la galleria, lì sotto, dove sono andati a tirarlo su con la... Lì c'è il buco del luogo. Con la tremezzina. Sì, 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 sì. Sì, hanno sempre detto che era un punto molto profondo e venivano... Sì, sì, ho sempre sentito da quando sono piccola che venivano gettate auto rubate, motorini, eccetera. Da quando sono piccolino ho sempre sentito questa cosa. Le deformazioni del veicolo indicano che c'è stato un ribaltamento, presumibilmente con impatto, su parti del dirupo. E lei ha visto il costone roccioso prospicente alla piazzola? L'ha visionato, ingegnere? Sì, ricordo bene, c'erano quattro pali, su uno di questi, uno di questi quattro pali era completamente ripiegato per terra nella direzione del fiume. Ha trovato dei segni compatibili con la piegatura di questo palo sulla macchina? Diciamo che la deformata in prossimità della parte posteriore del tetto è compatibile con l'impronta che avrebbe potuto lasciare il palo. La testimonianza del collo supera quindi questo primo vaglio critico, e cioè la macchina può essere stata gettata dall'alto. Sottolineo può perché nel processo c'è un consulente che sostiene che le ammaccature presenti sulla macchina potrebbero anche essere state causate dal corrente del lago. Ma soprattutto non contrasta con la tesi dell'accusa, la quale sostiene che l'imputato non ha voluto premietatamente uccidere Chiara Bariffi, bensì dopo una serata di eccessi e di baldorie la ragazza si sarebbe sentita male. L'imputato, credendo alla morta, spaventato, con l'aiuto degli amici avrebbe gettato la macchina nel lago. Ma chi erano questi amici che Vecchiarelli frequentava a Dervio? E allora cerchiamo di collegare Vecchiarelli a personaggi controversi di Dervio, ipoteticamente coinvolti in questa vicenda, con il satanismo e il gruppo musicale. In paese a Dervio circolavano delle voci che qualcuno facesse di questo tipo di giochi, chiamiamoli giochi, perché non penso al satanismo proprio ad alto livello, per divertimento. E mi ricordo che a scuola, siccome io insegnavo nelle scuole medie, qualche ragazzino mi venne a dire, ma succede questo? Ci piacerebbe anche noi fare un po' questi giochetti. Cioè, tipo, che cosa accadeva? Parlavano di sedute spiritiche, questo ecco. Ma abbiamo trovato parecchie scritte in prossimità sia dei cimiteri, che proprio nei luoghi si trovavano questi ragazzi per passare la notte o comunque parte della notte. I soliti segni, diciamo, di carattere satanico, sono dei sei rovesciati, sono altre croci, altre scritte inneggianti appunto a Satana, quale il loro massimo guida è così ideale, insomma. E l'è mai capitato di rinvenire animali morti? Sì, in effetti è stata una constatazione, soprattutto nei soborghi di Dervio, in quel momento di trovare così cani e gatti in numero, diciamo, consistente, insomma, morti. E erano tutti dissanguati, almeno erano sgozzati, almeno 4 o 5 che mi hai capitato di incontrare. Ho capito. Voi avete verificato se il vecchiarelli aveva una passione per l'occulto, per l'astrologia? Vecchiarelli sicuro, perché ne è prova anche tutti i disegni e tutto quello che è stato trovato durante le preposizioni. Spirituale, ma non nel senso cattivo della cosa, nel senso buono. Cioè profondo, dice lei. Sì, magari tiravo fuori qualcosa di esoterico, ma non nel senso cattivo, non nel diavolo, magari in Dio piuttosto che nel diavolo. Però un bel gruppo di ragazzi, con il discorso dei primi spinelli, della droga, eccetera, si è allontanato e ha costituito una compagnia cosiddetta, insomma, di ragazzi che si trovavano periodicamente in alcune località del paese o appena fuori paese per le loro feste, i loro ritrovi notturni, soprattutto nei giorni di sabato sera, venerdì sera, anche fino alla domenica inoltrata, insomma. Ecco, un po' la guida, comunque, colui che attirava i ragazzi, soprattutto in età più giovane, era appunto Casini Valeriano e si atteggiava appunto a essere il profeta, ecco, quindi... Leggo le sue dichiarazioni, lei mi dica se le conferma. Si definiva ministro di Satana e in due occasioni, una volta, addirittura, durante la Santa Messa era entrata in chiesa, aveva sputato sul pavimento e poi era uscito senza dire nulla. Conferma queste dichiarazioni? Si, due volte durante la Messa a Vespertina delle sei della sera, del sabato. Sa se nella zona di Dervio, all'epoca, parliamo del 2002, circolava una specie di setta satanica che faceva riti satanici? Bellano, colico? Bellano, colico non lo so, Dervio di satanisti non ce n'è. Non ce n'è mai. Il suo fratello è morto di infarto, quando? De me è cinque. Un funerale, diciamo, in un'atmosfera molto tesa, perché per questo funerale arrivarono molti giovani, penso un po' da tutte le parti, mi dicevano soprattutto che venivano da Milano. Durante l'omelia un ragazzo, un giovane, alza la voce dicendo lui non avrebbe voluto essere qui in questo momento. In chiesa? In chiesa. Ricordo che durante la funzione funebre le persone che erano in chiesa urlavano, urlavano più volte, Valeriano non è cristiano e non vuole nessun funerale. Conferma queste dichiarazioni? Poi durante il corteo verso il cimitero qualcuno ha cominciato a fare un po' di rumore, spaccando delle bottiglie di vetro. Una, ecco, mi ricordo di averla vista mentre stavo entrando in cimitero, stavo varcando la soglia. Abbiamo bottiglie, a terra, si ubriacavano, quindi un casino. Poi qualcuno ha voluto fare qualche suo saluto di commiato un po' particolare, mentre aspettavo che arrivassero anche i genitori. La mamma si era sentita male e quindi non arrivavano più i genitori per quell'ultimo momento, io ho aspettato un po', avrò visto qualcuno che con una bottiglietta di plastica versava dell'acqua sulla bara. Poi c'è stato il dopo, come è comparso poi sui giornali, cosa per cui anche i genitori, mi ricordo, hanno scritto sui giornali chiedendo scusa di quello che... cioè non erano d'accordo con quello che sarebbe poi successo, cioè hanno cominciato a imbrattare questi giovani che erano arrivati. Qualcuno ha imbrattato i muri, addirittura c'è stata un'aggressione, un ferimento di un derviese che era uscito lamentando del caos che stavano facendo e poi so che sono rimasti nelle vicinate del cimitero parecchio tempo, fino a sera inoltrata. Lei ha detto prima che a questi ragazzi avevano imbrattato i muri e che cosa era stato scritto? Si ricorda? Vale, vale vive... Ah, vabbè, quindi frasi di questo tipo. Lei ha avuto modo di vedere questi ragazzi, si ricorda come erano vestiti? Ad esempio qualcuno con capigliatura, come si chiama, la cresta, la cosetta cresta. E poi per dire, ho visto ieri ad esempio l'ultimo reportage di un rave party, ecco l'abbigliamento di chi va a questi avvenimenti. Ad Ervio e d'intorno dei giovani quindi vivevano al limite e spesso fuori dalle regole, ma erano appunto dei giovani. Vecchiarelli è un uomo adulto, si conoscono, si frequentano, che cosa li unisce? Voi avete verificato se il Vecchiarelli aveva amicizie, aveva dei rapporti con Valeriano? Abbiamo verificato che aveva delle frequentazioni, delle amicizie già da tempo, con Casini Valeriano e il fratello Casini Michele e con Cameroni Ugo suonavano in una band all'interno di un locale che era stato fornito loro dalla parrocchia e suonavano del rock duro, gli piaceva sta musica a sta gente. Tipo rock satanico? Eh, sì, rock satanico, rock duro. Questi ragazzi che suonavano qualche strumento, stavano imparando a suonare, si ritrovavano periodicamente tre sere alla settimana. Vecchiarelli Sandro, anche lui, essendo batterista, diceva di essere, ha frequentato anche lui questo gruppo. E senta, sa se di questo gruppo musicale faceva parte anche il Vecchiarelli? Suonava la batteria, ma l'ho già visto, spesso non suonava, proprio gli piaceva suonare la batteria. E Cameroni Ugo lo vedeva suonare in questo... E' vero che suonava anche lui la batteria? Lo suona forse ancora? Eh sì, sicuramente era suono, non so se suona, non mi ricordo, cioè, dettagliato, non so se posso dirle tanto. E si ricorda chi erano i suoi, i componenti della banda, insomma, chi è che veniva a suonare? Non c'era un gruppo fisso che suonava, erano tanti personaggi che... Lei, per esempio, quale strumento suonava? Io non venivo per suonare, io andavo ad assistere comunque. Ah, lei andava ad assistere? E suo fratello Valeriano suonava uno strumento? No, anche lui per assistere. No, anche lui per assistere. E sono proprio le indagini sul rapporto tra questi giovani e Sandro Vecchiarelli che sembrano portare gli inquirenti alla soluzione del caso. Vediamo perché. Secondo la prospettazione dell'accusa, la consumazione di questo delitto sarebbe stato reso possibile grazie all'aiuto dei due ragazzi, Valeriano Casini e Uvo Cameroni, i quali erano dipendenti di Rusconi Diego, che svolgeva attività di movimento terra e quindi disponeva di mezzi meccanici, in particolare di camion, che i tre avrebbero utilizzato per gettare la macchina nel lago dalla piazzola di Sosta sulla strada provinciale 72. Rusconi Diego è una persona che ha una ditta di movimento terra e quindi ha in uso ruspe, camion di ogni tipo, che commercializza anche. E il Casini Valeriano e il Cameroni Ugo erano in quel periodo, proprio nel 2002, dipendenti di Rusconi Diego. E fra l'altro li utilizzava pagandoli in nero, talvolta con denaro e molte volte con la cocaina, anche perché questi ragazzi ha sodato tutti i tossicodipendenti. Lei per caso aveva anche dei camion che servivano per fare il movimento terra o dei camion che servivano con un braccio meccanico? Con la gru. Con la gru? No, no, no. Non li avevo io. O con un braccio meccanico, non necessariamente una gru. Con un braccio meccanico? Si chiama un gru, dottore, si chiama un gru quelle lì. Meno, io li chiamo un gru. Lui commercializzava in camion, utilizzava dei mezzi per il movimento terra, però non siamo mai riusciti a individuare un mezzo con il quale, a nostro parere, fosse stato ipoteticamente svolto l'operazione. Lei ne ha parlato con Casini Valeriano della scomparsa di Chiara? Sì, abbiamo parlato di più del meno. E che cosa gli diceva? Loro pensavano, i ragazzi, gli pensavano che era sparita ancora, che era andata a Londra. Parole di Valeriano e di Ugo. Rosconi non possiede camion con la gru. Ma allora dove se lo sarebbe procurato Sandro Vecchiarelli il camion per gettare la ragazza nel lago? Il camion descritto dal teste Cola. Ecco che allora sorge il dubbio che il teste sia del tutto inattendibile. Mirko Cola, sentito in aula, cerca di allontanare da sé questo dubbio, ma per lui le cose si complicano. Adesso vi spiego un attimo più preciso. Quando sono uscita dalla galleria ho visto la jeep imbragata, rialzata, sopra il cassone. Quando mi ha visto che uscivo e sboccavo dalla galleria, il camionista l'ha sbassata giù tutta di colpo e ho sentito il cassone tramare mentre stavo facendo la cura. In quel momento ho guardato verso sinistra e ho visto quello che manovrava che era su così. Ha potuto riconoscere questa persona? No, non l'ho riconosciuto. L'ho solo vista dopo un paio di volte solo di vista. Gli sfuggiti dopo era qua. E dove l'ha visto? In giro per Dervio. Ma quando l'ha visto questo? Quando è successo di averlo rivisto? Anche l'anno scorso, anche un paio di mesi fa, quando passo solo da Dervio. Quindi continuo a rivederlo? No, non continuo a rivederlo. Quando passo via... E' sicuro che era la stessa persona che stava manovrando la gru? Anzitutto. Io spero, non posso dire che... No, non è che deve sperare. Scusi, non è che deve sperare. C'è un'unica cosa che ha riuscito. Scusi un momento, lei è convinto che sia la stessa persona? Che è una persona che gli assomiglia? Una persona che gli assomiglia. Oh, allora, cominciamo a dire che non è sicuro che sia la stessa persona? No. Una persona che gli assomiglia. Era dicembre? Era buio? Sì, era di notte, era le dieci e quarte, dieci e venti di sera. Buio, buio? Sì, buio. Ci sono lampioni in quella zona? No, ce ne sono le mie luci. Abbiamo realizzato un filmato posizionando un camion nel punto in cui viene posizionato dal teste. Ovviamente, lì c'è il camion, vediamo le luci di posizione davanti, le luci di ingombro e quella striscia catarifrangente. Allora, qua siamo già nella galleria di Derlio, famosa. Ecco, siamo usciti dalla galleria, lì sulla sinistra intravediamo le luci che sono quelle del camion. Il camion l'abbiamo già superato, questo è quello che ha visto il testimone. Rifacciamo rivedere. Qui la visibilità si ferma praticamente all'altezza della luce catarifrangente, che è circa un metro, un metro e mezzo da terra. Sopra è praticamente nudo. È un personaggio che non si è reso conto di quello che stava facendo. Non si è reso conto della portata delle cose che andava a fare con le sue dichiarazioni. Sembra proprio che il testa non abbia potuto vedere quello che ha raccontato di aver visto, ma vi sono anche altri elementi che ne inclinano l'attentabilità. Il primo riguarda gli orari. Infatti, è agli atti che Chiara Bariffi è stata vista per l'ultima volta il primo dicembre intorno alle 2.30. Fino alla sera dello stesso giorno, 22.30-23, in base a quanto ha dichiarato lo stesso Mirko Kola, ora in cui Chiara sarebbe stata gettata nel lago, c'è un arco di tempo di oltre 12 ore in cui nessuno ha visto Chiara, in cui nessuno vede più la macchina di Chiara. Soprattutto in questo arco di tempo nessuno più vede Vecchiarelli in compagnia di Chiara nella giornata del primo dicembre. Il corpo nell'auto, lanciato da un diluppo nella macchina. Sì, allora, beh, naturalmente ci sarebbe stato un impatto, giustamente, del corpo contro la struttura dell'abitacolo. Quindi in questo caso si sarebbero verificate delle lesività di ordine traumatico contusivo, sia di natura viscerale che scheletrico. Vi è stato anche effettuato uno studio radiologico della Salma, quindi correttamente, proprio per evidenziare la presenza di eventuali lesioni di tipo fratturativo, diciamo. E l'esame è stato negativo? Sì. Questi dati che lei ha riferito circa la mancata di riscontro di lesioni e chimosi sarebbe invece compatibile con un'ipotesi in cui l'auto si è scivolata in acqua? Sì. Monta definitivamente la tesi che la macchina della ragazza sia stata gettata nel lago dall'altro e ne accredita un'altra, e cioè quella che è stata molto probabilmente fatta scivolare nel lago. Ma questa seconda ipotesi non esclude assolutamente la responsabilità di Sandro Vecchiarelli, tanto più che in un'intercettazione ambientale tra Diego Rosconi e la madre, viene fatto il suo nome. Rosconi Diego in un ambientale con i propri familiari commento che secondo lui era stato il Vecchiarelli Sandro a buttare la macchina nel lago con la barifichiana. Noi abbiamo la trascrizione fatta da un perito di questa intercettazione ambientale e obiettivamente devo riscontrare che il nome di Vecchiarelli non viene mai fatto. Non fa il nome di Vecchiarelli, parla di quel tipo lì, una cosa del genere, dice quello basso, poi lo descrive, è 40-45 anni, nato a Milano, va sempre in giro col motorino, stava ad Alteo, stava sempre insieme alla Chiara. Sandro Vecchiarelli non viene nominato. Ma soprattutto, Rosconi parlando dice, ma lì è stato quel piccio lì che l'ha cacciata giù. Non fa un nome ma dice quel piccio lì, che è un modo di dire lombardo, per dire quello stupidotto lì, quel cretino, esatto? Lei quanti picci conosce? Tanti. Ecco, grazie. Quando lei dice, è stato quel piccio lì a chi si riferisce? Sempre pensato a Vecchiarelli. Sempre a Vecchiarelli. Quindi col piccio lei si riferisce a Vecchiarelli. Perché ha indicato Vecchiarelli e non il signor X o il signor Y? Perché è proprio Vecchiarelli? Perché mi ricordo che quando era successo il caso, i carabinieri continuavano a venire a prenderlo a Dervio. era lui quello più interrogato, diciamo. E per quello che io, dico, era un pensiero mio, personale. Non incolpare nessuno. Aveva dei motivi di fatto per pensarlo? No, no. Perché sapeva che tra Vecchiarelli e la Barificia era stato guardato? No, no, no. Non sapevo neanche che... Cioè, io ero una vita che non vedevo più Vecchiarelli. E quindi come faceva a collegarli i due? Questo che non riesco bene a capire. Cioè, come mai... Dicevano tutti che erano in giro assieme. Ah, questo l'aveva sentito? Eh sì, televisione, giornali. Dopo ogni giornale scriveva quello che volevo. In tutta Dervio, quindi, era noto che Chiara e Sandro erano molto amici. Ma vi era qualcosa di più? È possibile che in questo rapporto si nasconda il movente dell'omicidio? Passeggiando per il paese, passando vicino a un gruppetto di persone anziane che pettegolavano, ho sentito appunto che questa Chiara Barifi aveva una relazione con questo Sandrino, questo personaggio. E quindi sono fermato un attimo e quindi ho ascoltato, ho rigliato un attimino quello che dicevano. E fa un'annotazione di servizio? Sì, deve essere avuto le indagini. Senza approfondire il fatto di chi fossero queste persone? Ebbene, non è educato le persone che colloquiano fra di loro andare a intromettermi. Cioè, ma col lavoro che fa lei non ha approfondito questo argomento? Eh no, anche perché era un personaggio anziano, è solo rimasto finché finiva il discorso, bene o male, le vie sono piccole in paese, non ho approfondito. Ricordo che da un'intervista, dalla quale io credo di aver acquisito una videocassetta su Rete Unica, Vecchiarelli era stato incalzato dalla giornalista su eventuali comunque attenzioni di tipo oltre che sentimentale, anche sessuale nei confronti della Chiara Barifi. Lui ha sempre negato, però nella stessa intervista ricordo che disse, ma io mi comporto amichevolmente, faccio il gentiluomo, però se ci dovesse poi anche capitare qualcos'altro, insomma, ben venga. Comunque avevano delle frequentazioni certe perché il Vecchiarelli aveva un padre centenario, allettato e andavano a casa sua ad aiutarlo ad accudire questo uovo. Gli atteggiamenti del Vecchiarelli verso Chiara, gli atteggiamenti del Vecchiarelli verso Vecchiarelli erano simili, perché comunque, cioè io so, visto che le prendo anche io, prendo dei psicofarmaci, e sapevo che probabilmente anche Chiara prendeva questi psicofarmaci, e forse Vecchiarelli aveva un po' di voglia di curarla questa Chiara, allo stesso tempo Chiara aveva voglia forse di un po' di dar compagnia, di curare Vecchiarelli. Ma lei sa se i due stavano insieme? No, penso che sensualmente non sia mai nato niente, penso, perché... perché forse Chiara, essendo anche una sognatrice, non penso che era proprio il suo sogno in Vecchiarelli. Era una bella ragazza giovane e lui era un vecchio praticamente. Ho capito. E poi soprattutto con esperienze discutibili, eccetera, insomma, ecco. Ecco, sua figlia le confidò mai che il Vecchiarelli si era innamorato di lei? No. Pensava di gestirsi da solo, di essere abbastanza grande per gestirsi da solo. Lui litigò con un soggetto di Derby, un certo Cherchi Gavino, per gelosia nei confronti della Barifi. Pare che il Cherchi stesse, credo, facendo delle attenzioni alla Barifi. Il Vecchiarelli litigò, se non sbaglio, addirittura puntandogli un cacciavite. Accettiamo questo. La prima volta è stato al bar Pavone, a Derbio. Io sono arrivato dal lavoro, ho fatto la doccia e sono andato a bere l'appetitivo. E nel bar c'era Chiara, Vecchiarelli, un altro ragazzo, adesso non mi ricordo più, è proprietario del locale. Stavamo bevendo tutti tranquilli e Vecchiarelli mi disse che io con la mano avrei toccato il fondo della schiena della Barifi, quando non era vero. Infatti con la Chiara ne abbiamo parlato subito, infatti mi ha detto che Gavino non è vero, non è successo niente. E dopo abbiamo avuto un battivecco e ci siamo spinti. Io gli avevo dato una spinta, per me era finita lì quella volta. E si ricorda anche che cosa le disse Vecchiarelli nell'occasione? Mi disse Gavi te la faccio pagare. E poi in riferimento a Chiara le disse qualche altra cosa? Se lo ricordo? No, non mi ricordo questo. Mentre mi spingeva mi diceva di stare lontano dalla sua donna, facendomi capire che era geloso e non voleva che alcuno importunasse la Chiara. Le disse così? Sì, me lo fece intendere comunque, sì. Le parole più o meno erano quelle, sì. Si ricorda le parole esatte? No, non me le ricordo le parole esatte, però comunque mi ha fatto capire di lasciare stare lontano. Ma io non lo sfioravo. Sì, ma poteva dire lascia stare la mia amica Chiara oppure lascia stare la mia fidanzata. Può aver detto anche benissimo lascia stare la mia amica Chiara. Ma mai visto degli atteggiamenti tra loro due che potessero far pensare che tra i due c'era una relazione? Mai, mai, mai. Mai? Erano due cose opposte. Ma paga, siccome gli opposti si attraggono. Ma in quel caso lì non si attraggono. Non si attraggono. Quindi secondo lei non c'era una relazione tra i due? No, assolutamente no. E dopo questo episodio è accaduto qualcos'altro? Sì, al bar Ping. Eh. Lui arrivò con lo scooter, io ero dentro a bere con degli amici e tirò fuori da sotto la sella un cacciavite. Io ho fatto tanti lavori, ma un cacciavite così grande non l'ho mai visto. Un cacciavite di circa 50-60 cm. E cominciò a puntare sto cacciavite contro la vetrata grande, che ci sono due ingressi in questo locale. E allora il proprietario del bar, avendo paura che lui scalfisse il vetro, mi ha detto Gavino vai fuori se non mi rompe la vetrata. Io sono andato giù da basso, ho preso una stecca da biliardo e sono uscito dall'altra parte, dalla seconda entrata. Gli ho dato un colpo alla mano sinistra o destra, che lui aveva il cacciavite, ed è finita lì. Non è così, perché lei a Carabinieri ha detto Mi trovo nel parcheggio dei bar Pindi, Dervio. Giungeva a vecchia di Alessandro, che dopo aver parcheggiato sul ciclomotore, si avvicinava a me e diceva Stai attento che te la faccio pagare e ti ammazzo. Non c'è il cacciavite. No, no, il cacciavite ce l'aveva. Sì, arriva dopo. Perché lei può fare. Io queste parole ho reagito, dandogli due sberle e forse un calcio. No, no, io non l'ho usato alle mani, ma ho preso una stecca da biliardo, sono andato di sotto al bar. No, signor Kerchi, finisco. Dopodiché me ne sono andato all'interno del bar Pindi. Poco dopo venivo avvisato dagli altri avventori del bar che il Vecchiarelli stava venendo verso la porta d'ingresso con un oggetto metallico in mano che poteva essere un coltello. No, no, è un cacciavite. Comunque io le mani addosso al Vecchiarelli non le ho messe. L'ha dichiarato lei ai Carabinieri questa cosa qui? Magari gli ha volato una spinta, ma calcio e sberle, mi dispiace. Allora, signor Kerchi, lei dichiara questa cosa. Ho reagito dandogli due sberle e forse un calcio. Una sberla magari, ma non che l'ho picchiato. No, non so, ma qui più passa il tempo più cambiano le cose. Siccome lei ha l'obbligo di dire la verità, ci vuole pensare con calmo un momento e raccontare esattamente cosa è successo quel pomeriggio. Può darsi anche che gli abbia dato uno schiaffo. Quindi, prima c'è stata una lite fuori del bar. Può darsi. Senza cacciavite. Non sono convinto però io. No, va bene. Siccome lei non è convinto, ma questa cosa le ha dette ai Carabinieri che l'hanno scritta e l'ha affermata, vorremmo anche sapere cosa è successo in verità. Quando arriva il vecchiarelli con la moto, lei è fuori dal bar, gli dà questa sberla. Il vecchiarelli le manano il cacciavite o no? Sicuramente no. Non ha il cacciavite. No. E lei gli dà questa sberla. E poi le entra... Ma secondo lei, scusi, io gli do una sberla così tanto per male? No, il vecchiarelli gli ha detto, se dentro che te la faccio pagare, ti ammazzo, lei gli ha dato una sberla. Allora si vede così. Così, allora sta bene. Sa se il vecchiarelli aveva interesse nei confronti di sua sorella? Quello magari un po' sì, però ecco mia sorella non mi sembrava assolutamente impensierita né minacciata in quel senso. Poi mia sorella era una persona veramente molto autonoma, poi insomma era una ragazza di 30 anni, non una ragazzina. Aveva pena di questo perché lei voleva aiutare tutti. Perciò invece lui probabilmente ne sarà stato anche invaghito, non dico, ma non era il caso di supporre nient'altro. Quando Chiara le parlava della sua amicizia con vecchiarelli Sandro, lei l'ha mai sconsigliata di frequentare vecchiarelli? Sicuramente sì, e vale per tutti gli altri dalla compagnia. Sicuramente sì, perché? Perché la considero una compagnia che se uno è forte e sa il fatto suo, si può permettere di passarci attraverso ed è meglio che non si fermi troppo. Chiara aveva dei problemi, quindi andava tutelata, non gli andava offerto un bicchiere di vino, non gli si chiedeva di andare a ballare, non gli si dava in mano lo spinello. Invece in quella compagnia cosa facciamo stasera? Cosa bevi? Una birra? Pago io questa? Ecco. Chiara è morta per un negamento sotto l'effetto di un cocktail di alcol, droga e psicofammerci. E a sbarazzarsi del suo corpo ancora in vita sono stati proprio i suoi amici. Gettandola nel lago, anziché soccorrerla, le hanno volontariamente negato qualsiasi possibilità di avere salva la vita. Venuto meno il movente della gelosia, si rafforza la tesi che Chiara Bariffi, dopo una serata di eccessi, si sia sentita male. E che Sandro Vecchiarelli, credendola morta, l'abbia spinta nel lago. Si cerca ora quindi di capire se in queste serate si eccedeva proprio in alcol e droghe. Il suo bar veniva frequentato da Vecchiarelli e da Chiara Bariffi? Sì. Ha mai visto o l'uno o l'altro alterati a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, che qualche volta esagerassero nell'assunzione di bevande alcoliche, che fossero ubriachi? Gli ha visti? Sì. Che ha appena dato nel suo bar? Non sono sicura. Gli ho visti quando siamo usciti una sera in discoteca insieme, che erano tutti due un po' ubriachi. Nel bar Sandro di sicuro, però dopo la scomparsa di Chiara. Chiara nel bar no, era sempre un po' via di testa, però non mi sembrava ubriaca. Li ha mai visti bere insieme all'interno di questi locali, bere alcol? Ma quello si può dire che è il collante d'unione della compagnia, bere. Quindi vale per tutti, sia Chiara, Sandro e tutti gli altri. Se c'è qualche stemio può essere, ma sarà uno o due. Lei sa se Chiara faceva uso di sostanze stupefacenti, signora? Credo che fosse solo le rivarie. Cioè erano droghe leggere, diciamo così. In una circostanza ricordo che Chiara aveva invitato a casa il vecchiarelli ed assieme avevano fumato uno spinello. Lei le conferma, signora, queste circostanze? Anche perché aveva avuto questo, diciamo, anche che io non ero poi più sua madre in primo tempo dopo la malattia. Quindi lei non aveva nessun ritegno a parlarmi di queste cose. E poi mi diceva, no, ma guarda che poi il, insomma, l'americana, ecco, quando è passata l'ascis ho avuto qualcosa da dirle, insomma. D'altra parte non avevo più voce in capitolo. Ho capito. E consumare droghe le hai mai visti? L'alcol penso che sia una droga pesante, no? Le droghe leggere è normalissimo che girassero. E' accertato quindi l'uso di alcol e droga leggera. E potrebbe essere successo ciò che pensa l'accusa. E cioè che Chiara Bariffi, dopo una serata di eccessi, si sia sentita male. E che Sandro vecchiarelli, credendo la morta, spaventato, abbia fatto scivolare la macchina nel lago. Ma esiste un luogo da cui questa operazione poteva essere fatta? L'unico posto che, se l'hanno trovata, che è andata giù, è l'unico posto che può essere uno scivolo. Secondo il mio punto di vista. Lei ha fatto la ripresa video, nelle foto poi versate nel fascicolo del dibattimento, del tragitto dalla sbarra allo scivolo di Santa Cecilia. Sì. Era atteso a far capire che tipo di tragitto avrebbe dovuto fare la Chiara a bordo della macchina per arrivare allo scivolo. e quindi era solo una cosa illustrativa. Se questo lo vogliamo mettere in relazione al giorno della scomparsa, non siamo in grado, perché non siamo riusciti ad accettare, se quel giorno la sbarra era chiusa o aperta. O magari se c'era anche già la sbarra. La sbarra c'era di sicuro, probabilmente era aperta. Lei conosce lo scivolo in località Santa Cecilia? Sì. E sa se all'epoca dei fatti vi era una sbarra e se questa era chiusa? Non lo saprei garantire, però penso di sì. La sbarra lì, ai tempi c'era sempre, in genere era sempre chiusa. Anche se rimane una mera ipotesi, il fatto che la macchina di Chiara sia scivolata nel lago è sicuramente l'ipotesi più probabile. Bisogna però dire che nel processo non esiste nessun elemento, nessun indizio, nessuna prova che colleghi la figura di Sandro Vecchiarelli a questo scivolo. Ed è per questo che il Pubblico Ministero fa le seguenti richieste. Nel processo appena svolto, che è stato tecnicamente difficile, non si è formata la piena prova circa la responsabilità di Vecchiarelli in ordine al delitto di concorso in omicidio volontario di Chiara Bariffi. Per questi motivi questo ufficio chiede l'assoluzione di Vecchiarelli Sandro per il reato di concorso in omicidio volontario per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale. Chiuderò dicendovi, signori, questo processo ha perso anche quelle poche tessere che c'erano all'inizio. Non potremmo riuscire neanche a ricomporre un minimo del puzzle che volevamo comporre, che si voleva comporre contro Sandro Vecchiarelli. 583 giorni di carcere per questa difesa assolutamente e totalmente gratuita. Vi chiedo quindi di portare in Camera di Consiglio tutte le mie deduzioni e di pronunciare l'assoluzione per Sandro Vecchiarelli. Visto l'articolo 530, secondo comma, CPP assolve Vecchiarelli Sandro dal reato a lui ha scritto al capo A per non avere commesso il fatto. Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa, dichiarando cessata la misura cautelare applicata a Vecchiarelli con ordinanza del GIP del Tribunale di Lecco in data 12 aprile 2008, indica per il deposito della motivazione il giorno 25 febbraio 2010. La storia processuale di Sandro Vecchiarelli. Il suo difensore ha fatto richiesta di un risarcimento per la carcerazione inutilmente fatta da questo sfortunato uomo e la morte di Chiara Bariffi rimane avvolta nei molti misteri che né le indagini né il processo sono riusciti a svelare. Quindi noi abbiamo finito, ma sabato prossimo cediamo molto volentieri questo spazio a una docu fiction sulla tragica fine di un ragazzo anche a noi molto caro, Federico Aldrovarandi. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al 28 maggio, sempre sulla terza rete, sempre alla terza ora. Arrivederci.